Musica Vieni su questo artista straordinario, il pittore della gioiosità coloristica, il pittore per eccellenza, eccolo qua, la sua spettacolarità nella gioiosità coloristica, Gerry Lunardi, artista amici che questo dipinge dal vero, questo dipinge dal vero, Gerry Lunardi, artista veneto per eccellenza, in questa rappresentazione delle sue colline vicentine, dove la bellezza primeggia nella sua spettacolarità, bella questa campitura di grano con questa spettacolarità interpretativa floreale, bella e significativa, quest'opera di Gerry Lunardi, proposta a 500 euro, basta confermare, il pittore della gioiosità coloristica, Il pittore per eccellenza che realizza queste opere dal vero, Gerry Lunardi, amici, questo è un artista che ha premiato tantissimi, Vip, tantissimi concorsi, ha vinto nella più bella selezione artistico-pittorica dei maggiori concorsi nazionali e internazionali, Gerry Lunardi, eccola qui la firma, 500 euro per questo dipinto su tavola, 72 di base per 52 di altezza, misura internazionale, incorniciata dall'artista così come la vedete, vedete? Grazie a tutti